La prova automobilistica sui 50.000 km più della circonferenza terrestre si è conclusa a Montlery presso Parigi assicurando alla Francia 8 primati internazionali di velocità con macchina Simca Fiat da corsa che finora erano detenuti dalla Germania. 20.000 km sono stati effettuati a Parigi, altri 20.000 su strada giorno e notte senza interruzione e 10.000 sull'autodromo alla media di 115 km e 142 metri orari.